Agenti di polizia e carabinieri avrebbero potuto, ce lo hanno detto, individuarli prima, per esempio nei metro quando scendevano bastava fermare quelli armati o che avevano il materiale per nascondersi o arrestarli in piazza sol che gli si fosse dato l'ordine. E non mi dite che abbiamo evitato guai maggiori, 9.000 uomini lei ci ha detto, gente molti dei quali sono stati nelle missioni internazionali, in Afghanistan, in Iraq e i carabinieri. Aspetti mi dia un minuto come gli altri, mi dia un minuto come gli altri, mi dia un minuto come gli altri, signor Presidente si vergogni di chiamarmi, si vergogni, mi faccia concludere. La richiama all'ordine, lei non si può perdere, la richiama all'ordine, essa è la persona. La richiama all'ordine, lei non si può perdere, la richiama all'ordine, lei non si può perdere, la richiama all'ordine. Allora, continuiamo i nostri lavori, da una prova che è stato tranquile, prego. Non è che. Il deputato del gruppo, pancredi. Grazie, presidenze, ministro, colleghi. La prima di pari è tutta il ritieno, ma richiesto che questa è stata una propria presenza che ha fatto per i giorni verificati se arrivano in occasione di video-operazione del gruppo. L'informativa oggi reso dal ministro al franzo è fondamentale per la sicurezza a 24 ore alla testa di navigazione del gruppo, alle felicitazioni del paese e alle quali